Il rischio di default era un rischio molto concreto. Il dissesto finanziario del Comune avrebbe portato all'aumento di tutte le tasse, ma non solo delle tasse, ma di tutti i servizi che presta il Comune, quindi parliamo di asilinito, di riflessione scolastica, che più ne ha più ne metta. Ovviamente sul 2014 abbiamo tutta l'intenzione e tutto l'interesse di andare a rivedere a ribasso quello che si è fatto quest'anno per tentare di chiudere il bilancio 2013, che come voglio ricordare non era un bilancio nostro, ma era un bilancio in dodicesimi fatti da precedenti amministrazioni. Perché l'opposizione fa notare come adesso la tares più alta d'Italia sia quella applicata a Siracusa? Questo dato che viene dato in maniera strumentale secondo noi non è assolutamente così. La tares, laddove, devo dire che sono il 90% dei comuni italiani, è in fase di attuazione in questo momento, vediamo che di fatto si equipara un po' su tutto il territorio agli importi più o meno quelli siracusani. Il problema era l'indice di copertura, che prima il Comune di Siracusa contribuiva con qualcosa come il 30% ai costi della vecchia Tarso e ora praticamente è il 100% questo servizio a carico dei cittadini, come dice la norma comunitaria. Voglio ricordare una norma comunitaria che è anche una norma più equa, infatti che tiene conto di quella che è la produzione effettiva di tutti i rifiuti. Parliamo ovviamente di un rapporto metri quadri, numero di abitanti per quanto riguarda le civili abitazioni e quindi potenzialmente quale rifiuto che può essere prodotto. Da parte nostra devo dire che da una parte ci sono anche dei settori che risparmiano con la tares. Io penso ad esempio agli studi professionali che avevano 9,45 euro a metro quadro, oggi scendono a 7,10 euro a metro quadro e come tante altre categorie che di fatto hanno modo di attestare che si avvalgono di sistemi di smaltimento rifiuti diversi che pagano a parte, per cui è del tutto evidente che un costo esagerato della tassa sui rifiuti lì danneggia ed è profondamente ingiusto. Immagino che adesso c'è stata questa approvazione definitiva, poi perché ognuno, ogni cittadino, possa farsi un'idea, ci sarà la possibilità di andare a consultare? Certo, appena il regolamento che è stato votato, tra l'altro con l'immediata esecutività, saranno calati 50 emendamenti circa dagli uffici, lo renderemo pubblico ovviamente e lo pubblicheremo sul sito del Comune, quindi chiunque ne potrà prendere visione. Dopodiché come funzionerà? Ci sono stati in passato dei provvedimenti assunti da lei e dall'amministrazione comunale per andare incontro dal punto di vista dei tempi alle esigenze dei cittadini, quindi la possibilità di non pagare la mora per 30 giorni e un'altra volta per la seconda rata. Allora, sì, questo l'avevamo già fatto, l'avevamo già detto sostanzialmente, voglio ricordare che poi le due rate, che la prima scadenza, una era in agosto, poi sono state posticipate entrambe al 30 ottobre. Ora abbiamo un appuntamento che è quello del 16 ottobre, dove c'è una normativa nazionale, ci sono due normative nazionali, una in contrasto con l'altra. Questo è riferito allo 0,30 che va allo Stato sostanzialmente. Noi, il nostro interesse, la nostra intenzione è quella che questo 0,30 per metro quadro che va allo Stato, di spostarlo al 28 di febbraio come scadenza, quindi con l'ultima rata. Se sarà possibile sarà certamente fatto. Intanto giorno 16 dicembre però scade una rata, che è la terza rata, che quella era la scadenza del 16 dicembre. E quindi su quello, diciamo che già le cose sono chiare, sono già state ampiamente dette e spiegate. È interessante l'iniziativa che il Comune di Siracusa ha deciso di avviare per stilare il calendario degli eventi natalizi, che poi significa da dicembre fino a fine febbraio. È un po' un cambiamento abbastanza radicale rispetto al passato? Allora, diciamo sì, certamente c'è un cambiamento importante su questa cosa, anche perché si comincia a programmare e a pianificare quella che sarà l'attività legata ad eventi culturali e spettacoli nella città di Siracusa. Si è pensato da questo punto di vista appunto di utilizzare contenitori, in questo caso come sala a randone, che possono ospitare manifestazioni di qualsiasi tipo, attività teatrali, cinema, anche di musica, quindi concerti. Questo rientra in un avviso pubblico che abbiamo fatto e che abbiamo pubblicato, dove sostanzialmente abbiamo detto fatevi avanti territorio siracusano. Noi i Comuni di Siracusa mettiamo a disposizione quello che è le location, quelli che sono la luce e tutte quelle che sono le cose che di solito dovrebbero pagare a parte. Noi vi ospitiamo nelle nostre strutture, voi organizzatevi e cominciate a creare attività. Questo lo facciamo perché, al di là delle interlocuzioni sane che ci sono sul territorio, quindi con una voglia di coinvolgimento molto importante da parte del tessuto culturale della città di Siracusa. Lo facciamo anche perché oggi il Comune, essendo un Comune in forte, diciamo, tra virgolette crisi economica, non può pagare spettacoli di una certa dimensione. Quindi già, ad esempio, sono state fatte delle cose che sono risultate molto... In Via Roma c'è stato San Martino, sostanzialmente, che è stata una cosa molto bella. Noi pensiamo addirittura di incentivare, quindi di aiutare chi vuole fare queste attività di attività sul territorio siracusano, mettendoci a disposizione dei privati che ovviamente in quell'occasione si sono autotassati. Per il Comune però, appunto, le location solo pubblico, queste cose non sono state pagate. E allora, con queste impostazioni noi garantiamo che la città sostanzialmente vive. Tra l'altro, quello era un pezzo di Ortigia dove non si era praticamente mai fatto nulla perché parliamo di Via Roma, Piazza San Giuseppe. E allora, ci saranno anche questi avvenimenti durante il periodo natalizio e anche dopo. E diciamo che si comincia a guardare finalmente la città sotto più punti di vista e si tentano, nonostante le difficoltà economiche che voglio ricordare, siamo passati da 900-800 mila euro, quando c'erano i finanziamenti regionali per fare attività culturali a Siracusa, a praticamente a zero. Ora, evidentemente, col bilancio che andiamo a provare qualcosa ci sarà, ma non parliamo di cifre clamorose, parliamo di poche decine di migliaia di euro che evidentemente mettiamo a disposizione di tutte quelle persone che oggi vogliono contribuire affinché Siracusa faccia attività culturali sul territorio. Perché, se ho capito bene, funzionerà così. Io propongo la mia idea, se è ritenuta in linea con quello che l'amministrazione comunale vuole fare, allora avrò la possibilità di usare la Sala Randone oppure un altro spazio comunale, utilizzare l'energia elettrica senza pagarla, promuovere la mia iniziativa. La promozione ce ne occupiamo pure noi, sì. Poi per il resto faccio tutto io, ma significa che posso però anche cercare di recuperare le spese con un punto ristoro, con i biglietti, per il resto se lo gestisce l'associazione in questione. Assolutamente sì, funziona esattamente come hai detto. Noi mettiamo a disposizione sostanzialmente la location e la luce elettrica e diamo la possibilità a quelle persone, poi se è fuori location, quindi il suolo pubblico e tutto quello che gravita attorno, e diamo la possibilità appunto di avere anche perché è chiaro che chi organizza un'attività sul territorio ha dei costi, o con sponsor dei privati può farlo se riesce poi a farlo e quindi a rendere pubblico l'evento senza un minimo di sbigliettamento, però diamo anche la possibilità, che è una cosa che non mi sconvolge per niente, di fare anche un minimo di sbigliettamento per poter diciamo far fronte a quelli che sono i costi vivi. E permettimi una battuta, vi risolvete anche il problema di dire avete dato i contributi a Tizio Caio, a Sempronio e non a me. Ecco, questa è una cosa, siccome notoriamente ci siamo sempre battuti contro questo tipo di sistema che abbiamo sempre definito clientelare, perché meritocratico è difficile da stabilire. E allora, è chiaro che quando ci sono un gruppo di negozianti che mi fanno un evento che mi coinvolge due o tre vie della città, è del tutto evidente che un contributo è giustificato, risultano singolari quei contributi dati a manifestazioni che poi non tanto bene non se ne conosce, diciamo, la dimensione o la realizzazione. Cambiamo completamente argomento, perché tra i temi caldi di questo periodo, sicuramente, e non solo di questo periodo, devo dire per diverse vicende, Open Land. Open Land, la decisione del Comune di qualche settimana fa è stata particolarmente forte, altrettanto forte poi un evento successivo. Allora, cominciamo col dire che Open Land ha citato sostanzialmente per 28 milioni, ancora non è quantificato neanche il danno e non siamo in condizioni di sapere. Comunque pare che il Comune sia chiamato in causa per oltre 20 milioni di euro con Open Land. Una delle prime atti di questa amministrazione è stata costituire un ufficio speciale per ricostruire la situazione. Noi siamo convinti che nulla è dovuto a Open Land. La vigilanza urbanistica del Comune ha ritenuto di dover andare a fare un sopralluogo anche perché era arrivato sostanzialmente una comunicazione di fini lavori. Quindi la vigilanza urbanistica si è recata lì a verificare quali erano le condizioni. Ben due volte la vigilanza urbanistica non è stata fatta accedere al cantiere, che voglio dire in sé per sé è un fatto di una gravità inaudita, perché quando parte la vigilanza urbanistica c'è un cantiere, sostanzialmente si entra per verificare quali sono lo stato dell'arte dei lavori. preso atto che non sono stati fatti entrare i dipendenti comunali, si è provveduto a fare una denuncia alla procura dicendo guardate, nell'esercitare il nostro ruolo non è stato possibile vigilare su queste strutture. Bene. Succede che dopo che è stata fatta questa denuncia, praticamente credo che la società Open Land, anzi ne sono certo, abbia fatto una denuncia, che è qualcosa del paradossale, che ha del ridicolo, abbia fatto una denuncia alla procura dicendo che i funzionari avevano fatto una violazione di domicilio. Qualcuno un giorno mi spiegherà come i funzionari comunali, che hanno intanto tutto il diritto di entrare perché sono vigilanza urbanistica, che non sono tra l'altro stati fatti entrare, quale domicilio di chi hanno violato. Ed è tutto evidente che il Comune garantisce la copertura totale, perché è un atto intimidatorio evidentemente ai danni dei funzionari che lavorano al Comune di Siracusa. Il Comune, noi tuteleremo, il Comune di Siracusa tutelerà i primi cittadini con questo, diciamo, perché vedremo questi soldi che ci chiedono a che titolo bisogna darli, ma tuteleremo anche tutti quei funzionari che diligentemente cercano di fare il loro lavoro e che invece paradossalmente vengono colpiti da un avviso di garanzia a seguito di una denuncia fatta alla procura, che ritengo veramente, e sono delle cose clamorose, che però lasciano capire come spesso nella città di Siracusa ci siano state le profonde ingiustizie. Il segnale che noi stiamo tentando di dare in maniera abbastanza importante è che la musica è realmente cambiata e oggi c'è chi difende sia l'ente comune di Siracusa sia i dipendenti comunali che meritano di essere difessi ovviamente. Parliamo di lavori pubblici e di interventi che subito dopo il vostro insediamento avevate preannunciato indicandoli come prioritari. qualche giorno fa, credo forse più di qualche giorno fa, l'avvio dei lavori ad esempio in via Grotte, che rappresentava uno di quei luoghi, sicuramente un pezzo di strada, cioè non un'autostrada, ma con disagi davvero importanti per i residenti. Sì, noi rispetto a quello che abbiamo detto quel giorno che mi sono insediato, ricordo, l'unica cosa che praticamente è ferma è via Monterenna, perché c'è stato un ricorso di chi ha perso la gara d'appalto. Ora non ci sono le pratiche burocratiche da sbrigare e poi quindi partirà. Il completamento del Mazzanti parte verso fine dicembre, primi di gennaio, cominceranno i lavori perché la gara è stata fatta. Via Grotte era un'eterna incompiuta, anche questa qui, e ci stanno lavorando. Abbiamo fatto ripartire i lavori dei Cappuccini, via Calatabiano, la scuola, sono partiti i lavori. In questo momento Siracusa ha 4-5 cantiere aperti. Io mi auguro, visto la pianificazione che abbiamo fatto, perché penso proprio quando parliamo di sala Randone, c'è un finanziamento approvato che già verso la fine di febbraio potrebbe essere operativo, io per metà di giugno 2014 spero di avere, almeno in città di Siracusa, una ventina di cantiere aperti per poter in qualche maniera dare il respiro sia da un punto di vista occupazionale, voglio ricordare che ad aprile riparto nei lavori del porto, tra le altre cose, quindi sia per avere un respiro occupazionale abbastanza importante e sia per cominciare a fare quelle manutenzioni che la città merita. Un'altra cosa che partirà sono i 400 mila euro delle due palazzine popolari che sono in Largo Luciano Russo, che sono di proprietà comunale, e questi dovrebbero partire anche entro fine mese. Quindi da questo punto di vista c'è un'attenzione particolare proprio per smuovere quello che è il territorio. Ci sono diverse programmazioni in corso, molto importanti, anche di un livello economico molto, ma molto importante. Io penso che quando c'è stato qua la settimana scorsa il Presidente nazionale del CNR, Nicolai, abbiamo fatto una passeggiata per Ortigia, quando ha visto il carcere borbonico, ad esempio, si è ipotizzato, e stiamo tirando giù un progetto, di poter destinare quel carcere a un punto di CNR come destinazione d'uso. Dobbiamo anche parlare ovviamente con la provincia. Ci sono dei finanziamenti molto importanti da mettere in campo e si immaginava un Master di alto livello per neolaureati prendendo tre studenti neolaureati da ogni Stato della Comunità Economica Europea e far diventare centro di ricerca il carcere borbonico stesso. Ecco, questi sono le... Ricordiamo che il CNR è a Siracusa per dei sopralluoghi in Ortigia per via di... Il CNR è così, è a Siracusa, avevo trascurato questo aspetto. Sì, sì, sì. Per dei sopralluoghi tecnici a seguito del progetto pilota che abbiamo vinto come città di Siracusa lo scorso mese. Prima di salutarci, estendere quindi Ortigia anche alla zona archeologica diventa parte di questo progetto, insomma diventa già di una portata ancora maggiore rispetto a quello che era stato preannunciato. Ognuno adesso, questi sono i dati, ognuno adesso si fa la propria opinione poi potete esprimerla, naturalmente noi la gireremo al sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo che adesso lasciamo ai suoi impegni del fine settimana speriamo ci sia spazio anche per un po' di riposo perché immagino che il periodo adesso si farà particolarmente caldo visto che considerate alcune vicende politiche. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti.